...le gruppi di dettagli, facciamo conoscere, capire perché sono ancora un grande, capire come gli studi, con sicurezza che non ce li vuoi, c'è stata testa sanitaria, il compagnolo di Sant'Inizio. Abbiamo trovato una testa sanitaria, una comunicazione di servizio, Armadori Marco, Armadori Marco, e qualcuno lo conosce, la testa sanitaria è qua, solo io. Sennardo Giorgio Bessignani, Musici, Davide Bravi, Enrico Mengotti, Paolo Panciati, Nicola Pieraccini, Tommaso Flamini, Elia Oliva, Paolo Lombardi, Stefano Assirelli, Sergi Dei Munti, giusto? Più o meno. Dai a Munti. I compagni, Ufici, Terra del Sol. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 E vai, bravi! Compagnia e sbandonatori musici e uomini d'arme, terra del sole, por lì, bravi ragazzi!